Sarebbe la soluzione di tutto e invece noi riusciamo a complicarci sempre la vita con situazioni assurde e astruse. Io non riesco a capire di fronte a una valutazione medica sulle condizioni di Belotti che senso ha farlo andare lì, fargli stringere la mano e farlo ritornare indietro. Mi sembra un eccesso di controllo in un momento in cui invece le società e la federazione dovrebbero collaborare. E' questo quello che non mi quadra, ma in tutte le situazioni. Secondo me un giocatore infortunato è infortunato secondo quello che dicono i medici. Poi se i medici fossero degli imbroglioni è da dimostrarlo.